E' puntuale come ogni anno d'estate, purtroppo arrivano anche le storie di diritti negati e disagi per le categorie più deboli. Per i disabili in alcuni posti diventa difficile, se non impossibile, persino recarsi in spiaggia. Con Valeria Capezzuto siamo andati a Baia, dove una spiaggia era stata attrezzata per accoglierli, ma quest'anno la situazione è peggiorata. Il servizio. Dalla barca confiscata alla malavita organizzata, bandiere e tricolori per uno sbarco sulla spiaggia. Anche questa confiscata alla camorra fregrea, sottostante il castello di Baia. Una spiaggia oggi negata, ma che la scorsa estate ha rappresentato per circa 100 ragazzi disabili e per le loro famiglie un momento di normale svago. Come dovere e potere di un genitore fare in modo che si sappia, cioè ci sono come qui Villa Ferretti dei beni confiscati che vengono dati all'associazione. E questo debbono capire, devono capire che è importante fare tutto questo. Un paese esiste perché si sa raccogliere intorno a dei valori. La solidarietà, l'attenzione ai più deboli mi sembra, ci sembra come tutti a scuola, un ottimo valore, un ottimo punto da cui partire. Io penso che niente e in nessun posto il tricolore trova maggiore rappresentazione. In pratica da mesi associazioni di genitori e bambini disabili si stanno battendo per la destinazione ad uso sociale della spiaggia Attigua, Villa Ferretti, oggetto di finanziamenti in parte già eseguiti. Per l'apertura annunciata, ma non ancora avviata, di cantieri gli accessi alla spiaggia sono transennati. Unica strada, un sentiero impossibile perché ha difficoltà di movimento, ma non solo per loro. Il corso purtroppo che comunque mi è stato richiesto fortemente dai cittadini, dove comunque insomma è una... Ma è pericoloso, avete messo il cartello che è pericoloso, perché è pericoloso. Da parte mia, da parte mia la volevo proprio chiudere. L'anno prossimo sicuramente la Villa Ferretti sarà accessibile a tutti gli effetti. Abbiamo fatto questo protocollo d'intesa, c'è una progettazione chiara dell'ente comunale, ha già siglato un accordo di programma con le Università del Mare. Un protocollo, un progetto che denunciano le associazioni, nulla a che vedere con la disabilità e il disagio sociale. Con la scusa che la Villa è ancora un cantiere aperto, che di fatto praticamente già dal febbraio 2010 non è più così, con questa giustificazione l'amministrazione comunale di Bagoli ci ha chiuso le porte in faccia. Di dare la possibilità a delle famiglie che purtroppo non vengono assistite negli altri stabilimenti balneari, perché come sappiamo i disabili purtroppo, i ragazzi autistici molto spesso sono rifiutati dalle altre strutture. Quindi creare in questo posto un'integrazione fra le persone, del luogo e i ragazzi che purtroppo non hanno altri spazi, altri luoghi.